Ci prepariamo alla manifestazione allestendo deambulatori e strumenti di comunicazione. In attesa di avere poco per fortuna. Le macchine dei Caragineri sono tanti. Sì, non sono io una tascaccia. Sì, non so. È bello che partecipano anche loro alla manifestazione. Sì, non sono io una tascaccia. 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 Sì, non è una tascaccia. Sì, non è io una tascaccia. Non si è mai stata data. Haici a fare. Sei venuto alla marcia. Sì, con mia dichiarazione. Un centimetri di lato tra i proceduti. Siamo in anni quella notte e nei giorni successivi, io non sarei sindaco oggi sicuramente se la questione non avesse fatto nascere molti di noi la coscienza è giocata, io ci siete equipaggiando, ricordano Siamo in anni quella notte e nei giorni successivi, io ci siete equipaggiando, ricordano